Il mobilificio torinese nasce a Torino nel 1954 e nel 59 inaugura la sede di Barletta. In seguito la struttura si evolve con l'apertura di Mobi per un'offerta finalizzata alla convenienza. È ed MT Office che propone arredamenti per ufficio. L'evoluzione di questi anni ci ha portati ad avere un riconoscimento da parte del mercato che ci ha premiato. Abbiamo migliorato e continuiamo a farlo costantemente la qualità dell'esposizione. Per noi l'arredamento non è un insieme di mobili messi un po' qua un po' là, è soprattutto emozione. Ed è dar corpo a quelle che sono le esigenze, le richieste, i sogni dei nostri clienti. In questi anni abbiamo sviluppato delle collaborazioni con tantissime aziende italiane. Su tutte la Berloni, presente qui probabilmente dall'inizio dell'attività. Ultimamente anche con Scavolini, Caligari, C.S., Pianca, Giustiporto, Scortizzari, Zanette, Zalf, la Contempo per quanto riguarda i divani. Sicuramente aziende importanti che fanno di design, qualità ed eleganza le caratteristiche principali. Design, qualità ed eleganza. Caratteristiche fondamentali che Mobilificio Torinese ricerca in tutti i prodotti selezionati per lo showroom. La selezione dei prodotti da proporre ai nostri clienti viene fatta soprattutto visitando le fiere del settore, vedi il Salone del Mobile di Milano, dal quale attingiamo tantissime idee sia per quanto riguarda il prodotto fino a se stesso, sia per quanto riguarda gli allestimenti in genere. La ricerca della soddisfazione del cliente si costruisce anche offrendo un ventaglio di servizi, dal progetto al post vendita. Un progetto parte dall'ascolto delle esigenze di un cliente. Abbiamo oggi una squadra, gli arredatori e i progettisti, capaci di interpretare le richieste dei nostri clienti. L'acquisto di un arredamento è decisamente impegnativo dal punto di vista economico per chiunque e quindi aiutiamo il cliente a trovare formule di finanziamento più vantaggiose. Siamo in grado oggi di fornire un servizio di rilievo delle misure fatto direttamente a casa del privato con un tecnico che si occupa solo di questo. Il servizio di montaggio viene effettuato esclusivamente con falegnami con tantissima esperienza che fanno parte della nostra squadra. Ci occupiamo di seguire il nostro cliente anche dopo il montaggio dei mobili fornendogli un servizio post vendita di assoluto rilievo. Un mix di offerta, servizi ed attenzione alle esigenze del cliente. Mobilificio Torinese Emozioni da abitare